sono qui e sono felice di esserci io ricevo tante domande tanta posta e tra queste lettere ci sono tante persone che mi chiedono voglio fare una piccola premessa mi chiedono come se io avessi sempre la soluzione in tasca come se io quello che dico è oro colato io vi ringrazio per la fiducia però voglio anche ricordarvi che sono una poveraccia forse no anzi forse togliamo il forse ma sicuramente la più povera dei poveri la più ignorante che ama dio questo sì che ama dio allora qualsiasi cosa di positivo che possa esserci me non è per merito mio state sicuri che non è per merito mio quindi io vorrei invitarvi sempre a tenere lo sguardo verso il cielo verso i pensieri verso dio che poi possono trapassare anche la grazia attraverso le persone che si aprono alla grazia di dio e che dio può permettere di attraverso lo spirito santo di di poter parlare nel suo nome ma bisogna sempre avere prudenza quindi io vi ringrazio per l'affetto per la fiducia per per l'amore che mi dimostrate che che sono costretta a ringraziare la mia malattia ecco perché quando i santi dicevano quella malattia c'è la malattia le sofferenze le tribolazioni le difficoltà sono diventano un mezzo di di grazia allora io personalmente perché dico che sono d'accordo con i santi perché lo sperimento ogni giorno in prima persona attraverso la mia malattia guardate io prima ero una persona normale come tutti e avevo un caratteraccio avevo tante pretese era una persona mondana alla moda che seguivo avevo tante ambizioni ecco come del resto ognuno di noi quindi dio si va bene era sempre qualcosa di speciale per me però insomma non non è che mi convolgesse più di tanto e vi dico questo perché perché ecco indegnamente gesù un giorno ha pensato di voler fare qualcosa di più profondo di più autentico di meraviglioso nella nella mia vita è una cosa ha fatto modo anche per fermarmi perché io ho fatto anche tanti bei pasticce casini e non ci dimentichiamo non è che ho avuto una vita rosa una vita fiori e rosa sapesse quando l'ho combinata anche io e quindi il signore nella sua misericordia ha voluto fermarmi a dire aspetta un attimo a questa ci penso io perché forse qualcosa di buono c'è ancora in lei allora ha pensato bene ecco di farmi un bel regalo un bel regalo e vi assicuro che è stato un regalo più bello perché da questo regalo che è la malattia sono scaturite piogge di grazia non soltanto per la mia anima per la mia persona che mi hanno spogliato del superfluo satan tante persone fanno la lotta corrono dietro a tanti ideali però perdendo di vista poi la cosa più importante che è dio e quindi quando ci si allontana da dio inevitabilmente cosa succede che la nostra vita diventa sterile non siamo capaci più di di ritornare ok un po come gli apostoli di emmaus che camminavano addolorati dopo aver sperimentato tante cose belle però rimaneva l'amaro in bocca un po come tutti quanti noi allora camminavano per la strada di emmaus tutti sappiamo che era evidentemente un luogo di periferia verso dalle parti insomma non tanto lontano da gerusalemme e allora che cosa avevano sperimentato che tutto questo clamore tutta questa però alla fine tutto si era tramutato in cioè avevano sperimentato il vuoto il vuoto quello che sperimentiamo ogni giorno e questo vuoto era questa delusione perché secondo i loro calcoli che sono i calcoli di ognuno di noi ognuno vorrebbe un dio diciamo pronto come un banco matt ecco che signore io ho bisogno di questo 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 e questo ma il signore sa realmente di cosa abbiamo bisogno e di come e di quando concederci ciò che poi ci renderà delle persone diverse capace di amare di perdonare di rivoluzionare di uscire allo scoperto di toglierci le maschere di avere il coraggio di ammettere con noi stessi e dire sono una fallita senza dio non sono nulla non posso nulla e non vado da nessuna parte perché gesù ci dice senza di me non potete fare nulla allora come discepoli di emma uscio amo tanto questo questo racconto del vangelo perché perché pensa un po cioè gesù camminava cioè immaginare che gesù camminava con i discepoli di emma usso era al loro fianco vicino sentiva i loro ragionamenti la delusione che loro pensavano che quel dio e quel gesù avesse dato loro quello che desideravano un po come noi allora cioè quante volte quante volte il signore ci cammina a fianco proprio di fianco nella nostra vita e noi non abbiamo gli occhi per riconoscere perché il nostro cuore è da un'altra parte ecco perché quando bisogna pregare la prima cosa invece di chiedere la grazia la prima grazia che dovremmo chiedere signora apre il nostro cuore perché solo avendo il cuore si aprono anche gli occhi a vedere quello che senza il cuore aperto che riceve la grazia non potrebbe mai vedere ecco perché i loro occhi si aprirono nel vedere quando quando pronunziò le parole e spezzò il pane i loro occhi si aprirono allora ecco noi abbiamo bisogno proprio quando le persone mi dicono ma signore monica perché permette addirittura perché ha mandato questa pandemia ma 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 figuriamoci se il signore se dio non innanzitutto manda malattie pandemie guerre fame pestilenze ma se di amore no se dio amore se Dio è tutto questo io sono la via, la verità e la vita Dio è vita e quindi è per la vita non per la morte come può mandare tutto questo? Dobbiamo anche pensare però che Dio Dio permette non è che manda ma Dio permette anche per farci capire finalmente per coloro che non credono che esiste anche il male quello che stiamo vivendo il male che ha un nome quel nome che fa paura che mimizziamo che non crediamo perché così ci fa comodo perché anche tanti sacerdoti mi dispiace dirlo ma è verità nessuno più parla del demonio quando Gesù nel suo Vangelo nella Bibbia viene nominato per 365 volte io sono venuto per distruggere le opere del male quindi come possiamo pensare minimamente che Gesù che Dio manda queste costiche quando lui dice io sono venuto per distruggere le opere del male ma senza il vostro aiuto che vuol dire il vostro aiuto cioè noi dobbiamo cooperare pregando fidandoci di lui affidando le nostre vite dicendo Signore Gesù liberaci da questo male cosa diciamo nel Padre Nostro liberaci dal male liberaci dal male liberaci da questo virus liberaci da questi pensieri negativi che pensiamo che tu ci castighi che tu non ci vuoi bene che tu ci mandi le malattie che tu non fai niente per i tuoi figli che sei un padre che sei in cielo e noi siamo in terra ma no come discepoli di Emmaus Gesù cammina al nostro fianco e non lo riconosciamo nell'amore di un figlio nella carezza di un marito nella telefonata di un'amica di un padre di un infermiere di dottori ma lo vedete come ha portato di mano Gesù Cristo o pensate alle apparizioni cosa aspettate che Gesù vi deve apparire per dire ecco qua ci sono guardate che alla fine io c'ero ma ecco perché Signore apri i miei occhi apri il mio cuore in modo che possiamo riconoscerlo attraverso coloro che il Signore ci ha dato e chi sono chi ha la famiglia si prenda cura della sua famiglia e troverà Dio Gesù nella famiglia magari in quel figlio abbandonato chiuso in camera un marito stanco che torna da lavoro una moglie che ha bisogno di una carezza allora facciamo che questo tempo questo tempo che siamo costretti alle nostre case per questo virus che non è da Dio Dio non manda questo ma qui c'è proprio la firma lo zampino del demonio basta guardare che hanno chiuso le chiese hanno chiuso le chiese non possiamo cibarsi dell'Eucharistia che è il centro della fede di ogni cristiano per eccellenza chi non mangia e beve il mio sangue non avrà la vita eterna allora può Dio prima dire queste parole e poi ti sbarra la chiesa o forse qualcun altro malvagio che ha voluto allontanarci da tutto questo per non donarci quella salvezza per privarci di quella salvezza ma per portarci alla disperazione e allora come vogliamo rimanere a galla guardate che è iniziato il mese meraviglioso dedicato alla Madonna e allora il mese di maggio prepariamo un altarino ecco ognuno che può nella sua nella sua semplicità basta un astato un fiorellino fresco anche se non c'è una pianta anche un filo d'erba simbolo di dire Gesù entra nella nostra cassa madonnina intercedi per noi e perché tutti i mali non vengono per nocere guardate guardate me ok un giorno vi racconterò se Dio vuole quello che ero e oggi ringrazio perché questo male questo che può apparire male per chi mi guarda dice poverina guarda mamma mia non può respirare chissà come fa per me vi posso assicurare che è stato un grande bene perché mi ha riportato con i piedi per terra io volavo nella vita volavo con la fantasia e andavo andavo dove nei posti nei luoghi dove mi allontanavo da Dio allora non vivevo di beni efimeri no passeggeri ma non duratori oggi grazie alla malattia io ci vedo un dono ma non perché la malattia è un dono e attenzione no 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 la malattia non è un dono ma diventa dono perché ti aiuta a riscoprire quali sono i veri valori della vita allora cerchiamo di non lamentarci quando siamo messi in croce perché è un grande privilegio poter accompagnare arrampicarti sulla croce e stare abbracciata a Gesù perché quello è il senso del del soffrire del dolore della malattia delle ingiustizie delle incomprensioni delle guerre interiori delle lacrime è un privilegio perché Gesù lo consente per trarre sempre un bene più grande e per tenerti un po' con lui sulla croce allora cosa vogliamo fare non vogliamo tenerlo compagnia quando arriva la tribolazione salendo con lui sulla croce e allora amiamo Dio solo a parole e poi quando arriva i problemi e lui vuole portarci per grazia per privilegio su quella croce ah no Gesù allora no se tutto va bene allora scelgo Gesù però se va male ah Gesù perché mi hai fatto questo mi hai fatto questo ma bisogna ragionare al contrario come facevano i santi leggete le storie dei santi loro amavano essere crocifissi ma non come forma di sadismo perché in quella croce in quella croce in quella tribolazione in quella sofferenza in quella malattia in quella difficoltà loro avevano la certezza che Dio era molto più presente nelle loro vite e questo per loro era un motivo di gioia quindi in questo tempo che abbiamo a disposizione per stare nelle nostre case chiusi riflettiamo è un modo che Gesù sa trarre il bene e che sia un momento proficuo un periodo proficuo per crescere non con i pensieri negativi ma con quelli positivi ma soprattutto per vivere la fedeltà di Dio che rimane sempre il papà di ciascuno di noi e che ci ama tantissimo vostra Monica mi sono prolungata però va bene grazie a tutti